Buongiorno, benvenuti e benvenuti alla rassegna stampa di Mattino 6. Oggi è primo ottobre e nell'attenzione principale ci sarà ovviamente l'economia perché il governo nazionale ha varato l'aggiornamento del documento di economia e finanza e l'IVA non dovrebbe aumentare ma ci sarà anche molto spazio per la cronaca. Andiamo subito a scoprire cosa è successo nel mondo in Abruzzo dalle prime pagine dei quotidiani a partire da quegli abruzzesi e andiamo sul centro. L'autista del bus ha evitato la strage dopo l'incidente a Pescara schianto sull'asse con l'auto contromano ritirata la patente alla 24enne. La fotonotizia è dedicata al processo alla banda della rapina a casa Martelli a Lanciano, cronugi pestati in villa, chieste condanne da 12 a 18 anni. A Pescara uccisa a botte, penna di 13 anni al compagno e ancora a comune stop ai furbetti del gettone e a Francavilla salvò la padrona coltellata adottato il cane. E ancora cronaca, bimbo cade grave indagata la madre a Chieti il piccolo a 5 mesi, donna accusata di lesioni colpose e omissione di soccorso. Nel taglio alto, referendum elettorale, anche l'Abruzzo adesso ha depositato la richiesta insieme alle altre regioni. Voto ai 16 anni, Sidi Conte e Di Maio alla proposta del PD. E intanto ci sarà spazio anche per lo sport, Zauri cambia modulo per rilanciare il Pescara dopo le ultime sconfitte. Andiamo avanti, bimbo ferito indaga la mamma, Chieti è grave a 5 mesi dopo una caduta, il PM lesioni colpose e omissione di soccorso. Nella fotonotizia la cerimonia della polizia che è in festa, premi e medaglie per 22 agenti. A Lanciano non frustò i parrocchiani, prete assolto. A San Salvo auto bruciate nel deposito, pista foggiana. Intanto a Chieti, rifiuti nascosti sottoterra, 11 siti sono quelli a rischio e parte la campagna influenza 240 mila dosi di vaccino da distribuire. Come abbiamo visto la questione della rapina in Villa Lanciano, sono state chieste maxi condanne e approfondiremo in seguito questa questione. Andiamo sulla pagina di Teramo, post sisma rientrano 12 famiglie, completati i lavori nel primo condominio della città che torna finalmente agibile. Il sindaco di Giulianova, Costantini in ospedale, ha la polmonite. A Tortoreto ha il semaforo in sei mesi ben 2500 multe. Ad Atri il comitato via e un altro no alla discarica che appunto dovrebbe essere fatta ad Atri. A Roseto, primo incontro dei Renziani con Ginobile, c'è Tancredi nella fotonotizia. Andiamo nella prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, Alessia, Ateneo, impulso per la città. L'Aquila, il nuovo rettore, succede all'uscente in Verardi, Università, riferimento del territorio. Per quanto riguarda invece il Festival delle Polemiche, Saviano e altri ospiti, il festival si deve fare. Ad Avezzano, doppi turni alla mensa per 300 alunni. Intanto Pompeo teso a pacentro, terra degli avi. Pompeo è il segretario di Stato degli Stati Uniti. Andiamo avanti sulla prima pagina abruzzese del messaggero che titola sulla politica Bellachioma, area di dimissione, il coordinatore della Lega, bacchettato da Salvini, potrebbe rassegnare l'incarico che è quello di capogruppo della Lega abruzzese. Caso Fioretti, l'assessore, tiene duro e va in giunta a Marsilio. Non gli rivolge la parola. Il bilancio delle fiamme gialle, lavoro nero in quattro aziende su dieci. E Camere di Commercio, arriva l'ultimatum di Febbo, l'assessore regionale. Grandi eventi, la finanza torna in comune a Pescara, acquisiti i documenti del videomapping organizzato dalla società di Cristian Summa. Nella fotonotizia vediamo il governatore Marco Marsilio. L'Aquila in centro riaprono le poste, la città che rinasce. Inaugurazione con anche il ministro Patuanelli. E ancora nel taglio basso, il volo, il manager dei Tenorini, finisce sotto accusa. Ed eccoci sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Strappati alla madre per un errore, morso di cane scambiato per violenza sessuale, prosciolto il fratello maggiore, finito il calvario per due ragazzini. Nel taglio alto, stalking con videoporno, scattato il codice rosso. Ancora a Teramo 20 famiglie sfollate, tornano a casa loro. E in arrivo 60 colonnine elettriche. A Roseto coprifuoco alla villa per colpa dei vandali, quindi ora verrà chiusa nelle ore notturne. Giulianova sindaco in ospedale per una polmonite. A Valvibrata panichi respinge le accuse dei colleghi sindaci. Ma andiamo a vedere invece cosa è successo in Italia e nel mondo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali a partire dal Corriere della Sera. Come ha anticipato abbiamo l'economia in primo piano. Manovra all'IVA non aumenta. Governo varrà in piano il piano da circa 30 miliardi. E cresce il PIL più 0,6% nel 2020. Sia all'aggiornamento del DEF, contrasti tra gli alleati, Conte non esiste una golden share di Renzi. Intanto per quanto riguarda la questione economica comunque mancano ancora 5 miliardi, è uno dei nodi politici da sciogliere mentre il commercio tra l'Italia e gli Stati Uniti darsi pesanti per l'Italia che chiede aiuto a Pompeo che abbiamo visto si recherà presto in Italia. La fotonotizia è dedicata a una tragedia terribile accaduta nell'isola di Lesbo o almeno una donna e un bambino carbonizzati. Ma forse la tragedia è più grave. Morte tra le fiamme nel campo profughi. Un campo che poteva ospitare 3 mila profughi. Invece lì erano costretti circa 10 mila individui. E' scoppiato un rogo con tragiche conseguenze. Il Fatto Quotidiano cambia casacca verso quota mille furto di voti in 10 anni di salti della quaglia. Vediamo qui nella fotonotizia tra i parlamentari più celebri per il loro clamoroso passaggio cambio di casacca. Tra loro vediamo anche l'abruzzese Antonio Razzi. Nel 2008-2013 le giravolte furono 261 da 180 eletti. Nel 2013, fino al 2018, 566 cambi da 347 parlamentari. Nell'ultimo anno oltre 80 casi al seguito di Toti e Renzi che prima diceva se esci dal partito devi lasciare il seggiolino. Numeri che fanno riflettere sulla salute del nostro Parlamento. Stragi, l'inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri spiegata a Renzi e altri negazionisti. A Tiananmen la Cina Rossa ha 70 anni ma non è tanto popolare. Teresa Forcades, sono una suora di causura. Parlo di sesso e politica all'intervista sul Fatto Quotidiano. Andiamo avanti su Repubblica verso il documento Economia e Finanza. Governo in manovra. L'asse di Maio Renzi blocca l'aumento selettivo dell'IVA. Meno fondi per il taglio del cuneo fiscale. Conte caccia agli evasori. Recupereremo 7 miliardi. Bonus Befana per chi paga con carta di credito. Voto a 16 anni da 5 Stelle a Zingaretti. Tutti d'accordo. Facciamolo. Intanto andiamo avanti nel taglio basso. Non si uccidono così anche gli atleti. La domanda do a condizioni proibitive. Allarme per i mondiali di calcio. Vediamo un atleta infortunato. Si tratta del marciatore ucraino. Oro nella marcia a 50 km agli europei nel 2018. Nella foto notizia. Per quanto riguarda la politica estera. Vediamo qui il leader inglese. Il comizio delirante. Brexit a fine mese. Corbyn pollo al cloro. Urla e pistole dentro lo show proibito di Boris. Il messaggero stoppa l'IVA. Mancano 5 miliardi. Il Consiglio dei Ministri vara la manovra da 29 miliardi. Niente aumenti delle aliquote. 14 miliardi dal deficit al 2,2%. E il Ministero dell'Economia spera in 7 miliardi dalla lotta all'evasione. Scontro Renzi PD. Lira di Conte. Nessuno ha la Golden Share. Nella foto notizia. Doha. Il deserto è in tribuna. Il flop mondiale dell'atletica. Califa sempre vuoto. Allarme calcio 2022. E per quanto riguarda ancora la politica interna. Misure fiscali. C'è furbetti e bonus. I dubbi sulle coperture. La sfida con Matteo. Sfogo di Franceschini. Un film già visto. Può saltare tutto. A Roma rifiuti strada e tracollo AMA. Roma raccolta a rischio. Paralisi. Conti in rosso. CDA verso l'addio. L'allarme nel rapporto dei revisori. Boom migranti da Tunisia e Algeria. Le nuove rotte portano in Sardegna. Si tratta sui rimpatri. Salvini contro il nuovo ministro degli interni. La Morgese. Shock nella capitale. Suicida a 13 anni. L'ombra dei saberbulli. La pista degli insulti sui social. Crocifisso in classe. Il no del ministro. Fioramonti. La scuola è laica. Carfagna. Basta con gli showman. Ed eccoci sul mattino di Napoli. Costo del lavoro. Taglio rinviato. Il governo corregge il DEF. Bloccato l'aumento dell'IVA. Manovra da 29 miliardi. Deficit al 2,2%. Ma mancano 5 miliardi. Il tesoro incerca 7% dall'evasione. E intanto il reddito. Il 25% non risponde alle chiamate per il lavoro. Nella fotonotizia. Il delitto di Perugia. Meredith Rudy Guadet. Insieme in libertà. Lavora in uno studio di criminologia. Laureato con 110 e lode. 12 anni in cella. Navi e trasporti alle universiadi. Aperta l'inchiesta. Villaggio degli Atleti. Nel milino della Procura. La scelta di rinunciare alla mostra d'oltremare a Napoli. Andiamo avanti sul Libero. Che senza alcuna par condicio. Titola il governo del tradimento. Arrivano le tasse su case. E aziende. Riforma del catasto. Penalità sui contanti. Nuovi tributi ambientali. La manovra aumenta. Il deficit per foraggiare. Fannulloni. Secondo Libero. Brigatisti. Intanto Montanelli, Berlusconi ed io. Che storie. Il racconto di Vittorio Feltri. E che trio. Stipendia zona urge ripristinare le gabbie salariali. Nell'editoriale di questo quotidiano. Fioramonti scorda di nominare i prof. E Libero lo definisce il ministro della distruzione. E intanto Renzi punta a fare incetta di Grillini. Cannibale di 5 Stelle. E anche di PD. Andiamo avanti sul manifesto. Nella fotonotizia Conte sullo sfondo davanti a un Renzi che parla Italia IVA. Renzi apre le ostilità sul possibile aumento dell'imposta. Abbiamo voluto questo esecutivo per non per fermare Salvini ma per fermare le tasse. Duro scontro con il PD. Il governo corre ripari e prima del Consiglio dei Ministri i soldi escono fuori anche per un minicuneo fiscale. Ma solo sulla carta. Il leader di Italia Viva avverte. Senza di me non c'è maggioranza. Intanto Yousculture intervista a Giuseppe Brescia dei 5 Stelle. E nessun regalo. Ma serve consenso. Come abbiamo visto la tragedia di Lesbo. Corrogo al Campo di Moria. Finora due i morti accertati. Intanto diamo anche uno sguardo alla politica estera. Egitto tra i 2300 arrestati c'è Alah Abdel Fattah. L'Arabia Saudita vacilla il regno di Bin Salman. A sua insaputa vale sempre la pena leggere Alberto Negri. Il regno saudita in pugno al principe Mohammed Bin Salman. Quasi il reo confesso dell'omicidio del giornalista Jamal Khassogi. Vacilla. Ma in media il presidente statunitense Trump e ora anche quello russo Putin. Gareggiano per tenerlo in piedi. Alberto Negri parla di media. Perché ha il monarca saudita anche acquistato recentemente dei quotidiani inglesi. Oltre a finanziare la fondazione dell'ex premier Tony Blair. Che tra l'altro fu tra i principali fautori della fake news nel 2003. Che in Iraq ci fossero armi di distruzione di massa. Guerra a Soma. La militare italiana è base. Stati Uniti sotto attacco. E l'anticipazione è utopia. Le istruzioni per l'usio di Mario Tronti. E a Marzabottoi dall'Europarlamento. Offesa alla memoria. La verità di Maurizio Belpietro. Non solo BR, reddito di cittadinanza. Anche a ladri, stupratori e assassini. È tutto un unico calderone. La norma patrocinata dalla grillina Annunzia Catalfo. Attuale ministro del lavoro. Esclude dal beneficio che è in attesa di giudizio. Ma non i condannati per reati gravissimi. Basta che siano agli arresti domiciliari. Proprio come la terrorista Federica Saraceni. Il presidente dell'Inps, ripugnante. La Lega sale sull'Aventino. Dissertiamo l'aula. E la fotonotizia. Il ministro caccia da scuola i crocifissi. E la foto di Mattarella. Che comunque non era presente nelle aule. Nascondono l'aumento dell'IVA dietro la Befana. Il governo giura che non alzerà le aliquote. Ma cita un bonus a gennaio. Per chi non usa i contanti che ha senso. Solo se lo farà. Anche perché le coperture sono aleatorie. Il 2,2% di deficit. Non basta. E la proposta. Sedicenni alle urne. La sinistra senza voti. Dopo gli immigrati. Insegue i ragazzini. Una proposta che comunque era già stata fatta a tempo dietro. Dalla Lega. L'esempio olandese. Corriamo verso l'eutanasia. Che poi diventa omicidio. Legalizzato. Secondo la verità. La prossima mossa di Facebook. Dirci cosa fare. In Italia il libro che spiega come siamo diventati schiavi dei social network. Il sole 24 ore. Il quotidiano economico finanziario. Ci spiegherà sicuramente meglio la questione economica. Manovra da 30 miliardi. L'IVA non aumenta. Le coperture. Dalla flessibilità dell'Unione Europea. 14 miliardi. Oltre 7 dall'antievasione. 6 dal calo dello spread. Per quanto riguarda il cuneo fiscale. Taglio da luglio per 2,7 miliardi. Ma saliranno a 5,4 nel 2021. E continua la lotta al contante. Sconto e rimborsi per chi pagherà con gli strumenti elettronici. E le misure antillesciti. Stretta sui crediti inesistenti. Daspo per i professionisti. Che aiutano le frodi. E vediamo nel 2020 in crescita il PIL dello 0,6%. Il deficit al 2,2. Il debito scende. E Conte e Gualtieri. Un super piano antievasione fiscale. In arrivo green bond italiani. E la vera sfida rimane il rilancio dell'economia. Con gli stimoli BCE 4 milioni di posti. La fotonotizia è dedicata alle compagnie di navigazione. I fondi all'attacco di Mobi. Parola ai giudici sul fallimento. E intanto vediamo anche il von der Leyen, la presidente dell'Europarlamento. E in difficoltà l'Europarlamento dice no a due commissari. Andiamo avanti. La stampa IVA congelata. Servono 7 miliardi. Conte ottimista e li recupereremo dall'evasione. Qualtieri possibile. La rimodulazione delle aliquote. Presentata la manovra da 30 miliardi. Dubbi di Renzi e Di Maio. Palazzo Chigi lancia i green bond. La fotonotizia. Un'altra orribile questione di cronaca. Abusate dal maestro di equitazione. Sette bambine. Tra i 6 e i 14 anni. Leggiamo l'hotel nelle oasi. Così l'Arabia punta al turismo di massa. Le questioni degli esteri. Sono relegate al turismo. E l'isteria dell'allogione sul Nabucco. Parma fischia il suo Verdi. La polemica a Parma. I Verdi sfondano in Europa. Si tratta di altri Verdi ovviamente. Solo in Italia sono ai margini. Cacciari su Greta. Come Salvini. Semplifica tutto. Andiamo avanti sul tempo. Pronto uno scherzetto sulla casa. La manovra sarà accompagnata da un DDL collegato per rivedere tutti i valori catastrali. L'ha imposto l'Unione Europea. E alla fine aumenterà l'IMU su gran parte degli immobili. Come a dire si evita che venga messa un'ulteriore tassa. Ma ce ne sarà un'altra ancora. Conte ferma la stangata IVA chiesta dal PD. La celeberrima vignetta di Osho sul tempo. Ma andò le trovate sti 23 miliardi. E Conte risponde. L'altro giorno dentro una giacca. Che non me mettevo da gennaio. Pensa un po' tu. Il romanaccio. Per cui ovviamente chiedo scusa. Foglia Fioramonti vuole sfrattare Gesù e Mattarella. No a crocifisso e ritratto in aula. Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione. Bombama. Rischio la continuità aziendale. Allarme della Società di Revisione Contabile del Comune Ernst Young. L'azienda va verso il fallimento. Andiamo avanti sul secolo di Francesco Storace. Liberi e patrioti. In Rai insistono sul fascismo. Ma non chiederanno mai a Zingaretti se è comunista. Continua l'equiparazione tra fascismo e comunismo. In primo piano, come sempre, sul secolo la posizione di fratelli d'Italia. Sì al presidenzialismo. La Lega segue la Meloni. Terrorista di cittadinanza. Insulta il secolo d'Italia. Sempre la questione, le polemiche sul reddito. Di cittadinanza. Ecco l'annuncio di Conte. Non aumenteremo l'IVA. Il secolo XIX. La manovra di Conte. L'IVA non sale dalla lotta all'evasione. 7 miliardi. Il deficit per il 2020, previsto al 2,2%. Come abbiamo già visto, chiesta dalla Commissione UE. C'è una flessibilità di 14 miliardi. Sono queste le cifre della politica economica. Arrivano anche i tagli al cuneo fiscale. Andiamo avanti la fotonotizia. Vacanze a Portofino per Spielberg e Springsteen. Che vediamo qui in ferie, beati loro. Ma andiamo avanti, senza alcuna invidia, sull'avvenire. Il quotidiano cattolico si riparte da 30. Conte annuncia di aver trovato i miliardi per sterilizzare l'aumento dell'IVA. e promette un bonus a gennaio fino a 475 euro per chi paga con le carte. È stato varato l'aggiornamento del DEF. Saranno emessi titoli verdi per lo sviluppo. La fotonotizia è dedicata a Papa Bergoglio. Silenzio, parla la parola. Una festa per celebrarla. Il Papa istituisce una domenica dedicata. E ancora storia. Il comunismo al potere in Cina. da 70 anni per le celebrazioni in piazza Tenanmen. Il dibattito in ogni malato. Una dignità da ritrovare. Continua la campagna dell'avvenire contro l'eutanasia. Riforme, voto ai sedicenni. Dicono sì i leader 5 Stelle, PD, Conte e le ACLI. Associazioni in allarme. Non per non penalizzare l'affido dal forum. L'appello a valorizzare le esperienze positive delle famiglie. Ma adesso diamo anche un occhio allo sport sui quotidiani nazionali. a partire dalla Gazzetta. Che titola sul Milan. Che è in crisi. Crisi Milan. Tra caos e futuro. To cesceva a San Siro. Il CT ucraino a Milano. Per Atalanta a Shakhtar. Andrà a cena con Maldini. Intanto Elliot mette tutti sotto esame. Oltre a Giampaolo. Rischiano l'ex capitano. E Boban. Un'idea bella e possibile. L'indiscrezione ovviamente l'avrete capito. E che l'ex campione rosso-nero Andriy Shevchenko. Possa diventare il nuovo allenatore al posto di Giampaolo. Ma anche la Juve nel taglio alto. Cristiano Ronaldo. Ecco il Leverkusen. Sessegni ha fatto gol a 33 squadre diverse. Inter, Reto, Messi è sacro. Ma Conte con Lukaku può andare avanti. Zapata la carica. L'Euro Atalanta non deve sbagliare. Per quel che riguarda la Champions League. Il Toro in dieci si arrende e protesta. L'inglese all'88 firma il successo. Mazzarri partita accondizionata. Nel posticipo il Parma vince 3-2. Spulsi Bremer al 29esimo. E nel finale anche il tecnico Granata. Dopo il colpo a San Siro, Carisma, dribbling, orgoglio e serietà, così Ribéry ha già conquistato Firenze. Ma anche la Formula 1 c'è rivalità nella scuderia in rosso. Tensione Ferrari. Leclerc scalpita. Vettel non ci sta. Binotto è al Vivio. Il Corriere dello Sport. La mia Juve non si fa al bar. Cristiano Ronaldo condiva l'Eguain. Ipotesi affascinante ma praticabile. Solo per spezzoni di gara. La squadra non ha ancora maturato l'equilibrio necessario. Attenzione ad Avertz. Diventerà un top player. Champions Sarri sfida il Bayern e avverte. Queste erano le sue parole. Intanto Ribery l'Immortale che fa gioire Firenze. E nel taglio basso Conte e Lukaku. L'anti Messi. Domani barca al Camp Nou. Inter punta tutto sulla gigante belga. Inglese nel finale. Il Toro cade in dieci. Sirigu da solo non basta. Il Parma lo aggancia. Mancora i motori. Ferrari. La crisi ora è di crescita. Tregu armata. Vettel, Leclerc e Golf. Gli Open d'Italia a Roma. Sfilata di campioni con Molinari in testa. Ed eccoci su tutto sport. Vai Rambo. La Juve punta ancora su Ramsi. Stasera contro il Leverkusen. Sarri tanti tiri. Poche reti. Aggiustiamo la mira. Iguain favorito su Dybala. Come partner di Ronaldo. Pjanic siamo insaziabili. Nel taglio alto questo Toro si butta via. Resta in dieci per l'espulsione di Bremer. Rimonta il Parma ma si scioglie al novantesimo. E perde la grande occasione per tornare quarto. Rosso anche Mazzarri. Vedete qui la classifica provvisoria della Serie A. Oggi c'è lo Shakhtar per l'Atalanta. Ruccia-Sansiro. Gaspes-Catena-Zapata. È il top. Inter-Lukaku. Ci vogliono tutti i gol. Domani col Barca. Vediamo qui anche Crisi Milan. Io sto con Gian Paolo. Vittorio Feltri sempre controcorrente. Ferrari a Maranello. Due Galli in un pollaio. Caso Leclerc. Vette. I mondiali di atletica. Tamberi per decollare. Colloca. da Tome e Paltrinieri. E per la prima parte della nostra rassegna stampa è tutto. Adesso le previsioni del meteo. E dopo rimanete con noi perché andremo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani abruzzesi. A tra poco. Di nuovo in studio con Mattino 6. Martedì 1 ottobre. Adesso parliamo di Abruzzo. Andremo infatti a sfogliare i quotidiani locali a partire dal centro. In primo piano la politica resa dei conti nella Lega. Una nuova nomina finisce nel caos. Dopo il caso della compagna impugnata anche la delibera di Fioretti per gli incarichi nell'Asp di Pescara e l'Ira di Marsilio. Ed un sindaco scatena la reazione di Salvini che dà l'ultimatum a Bella Chioma e gli altri. La dirigenza della Lega abruzzese è quindi a rischio. Missione compiuta a Roma. Refrendum atti depositati da Angelo Sante e Montepara che vediamo qui nella foto. Nel taglio basso nuove camere come sarà il Parlamento nel caso della legge 5 stelle sul taglio dei parlamentari. All'Abruzzo rimarrebbero 13 seggi. Influenza oltre 240 mila i vaccini gratis. Giudicata la gara per l'acquisto ora parte la fase 2. Tocca alle 4 ASL distribuire le dosi in tutta la regione. Il virus sarà più aggressivo ma meno diffuso quest'anno. Caccia la giunta a ridare via libera per domani. Approvata sul filo di lana la delibera che sblocca il nuovo calendario venatorio fino al vaglio dei giudici del Tar. La saga si è adegua alle norme di sicurezza. All'aeroporto un nuovo piano di emergenza. Arap il primo atto di Savini taglia i debiti. L'azienda ha delle attività produttive. Il circuito è nato come sistema di scambio dei beni e servizi tra le imprese che sono 800 nella regione e ora apre al pubblico. Si tratta di una moneta virtuale che a quanto pare sta riscuotendo grande successo. Scopriamo meglio di cosa si tratta nel nostro servizio. Il circuito Abrex celebra insieme a Sardex SPA il superamento dello storico traguardo di oltre mezzo miliardo di crediti scambiati. La piattaforma online di credito commerciale creata quasi dieci anni fa in Sardegna per mettere in relazione le imprese del territorio fornendo loro strumenti di pagamento e di credito è ormai realtà consolidata nel fintech con oltre 65 milioni di transazioni effettuate solo negli ultimi otto mesi. Più di un milione di operazioni eseguite negli scorsi 11 mesi e 10.000 imprese aderenti nelle 12 regioni in cui è attiva. Circa un migliaio nelle quali scritte proprio nel circuito abruzzese Abrex. Come emerge nei dati? Il bilancio è più che positivo. Il circuito è un sistema innovativo che guarda al futuro, aiuta le relazioni tra imprese e consente a migliaia di professionisti di scambiarsi beni e servizi, contribuendo così alla crescita dell'economia locale. Non solo aziende però, sono infatti 6.000 i dipendenti collaboratori delle società associate che usano quotidianamente i crediti per far fronte alle loro esigenze di spesa. Non si tratta di una moneta virtuale o bitcoin, ma di un mercato complementare. Le imprese e i professionisti che aderiscono al network pagano una quota di adesione annuale, sono pronti a ricevere i pagamenti e fare acquisti in crediti del circuito, promuovendosi all'interno dello stesso. L'obiettivo principale di questo meccanismo virtuoso è quello di dare slancio all'economia di rete orientata al locale e contribuire a creare le basi per un efficace marketing territoriale tra gli aderenti. Già dallo scorso anno, questo sistema di pagamento complementare, pensato originariamente per professionisti, imprese e forza lavoro, ha attraversato una prima evoluzione, diventando patrimonio anche dei privati cittadini. Un programma dedicato ai privati, dove, ad ogni acquisto in euro, il consumatore riceve una ricarica in crediti, secondo una percentuale stabilita, che può utilizzare nel complesso delle attività aderenti. E un'analoga applicazione per i cittadini verrà presto attivata anche in Abruzzo, nell'ambito del progetto Compra Aquilano, iniziativa promossa dal Comune dell'Aquila, in partnership con il circuito Abrex, per contribuire a rilanciare l'economia cittadina. Festeggiamo tra un pochino, festeggiamo i dieci anni, abbiamo transato come movimento complessivamente mezzo miliardo, più di mezzo miliardo di crediti, che equivalgono a mezzo miliardo di economia, che non si sarebbe mai mossa grazie a questo strumento, per cui direi che è estremamente positivo. Ci sono migliaia di imprese che partecipano in Sardegna, più di 4 mila, e diverse migliaia anche nella penisola, per cui siamo assolutamente soddisfatti. Adesso torniamo sul centro e proseguiamo la nostra rassegna stampa. Il Gran Sasso Science Institute, nella missione del satellite Dampe, ricercatori dell'Istituto Aquilano, hanno contribuito alla prima misura diretta del flusso di raggi cosmici. E andiamo così su Pescara, l'incidente sul raccordo contro mano per 700 metri sull'asse, l'automobilista, mi sono confusa, patente ritirata e multa alla 24enne, che si è schiantata contro il bus dell'Associazione Marinai. Le indagini proseguono sull'uso di alcol e droga. Uno dei passeggeri feriti, siamo dei miracolati. Grande lo spavento a bordo, ma per fortuna nessuna tragica conseguenza. Quattro anni fa, l'autista Tuo ha ucciso dal 47enne contro mano. Il centro ci ricorda il precedente, un caso analogo. Andiamo avanti. Sei anni di violenza e Monica morta dopo le botte, il compagno condannato a 13 anni. Sentenza della Corte d'Assise per Gellu Cerciu, romeno di 67 anni. Il PM aveva chiesto 20 anni. La tragedia risale al 30 maggio 2018, quando la donna fu trovata esanime sull'uscio di casa. Falsi esami all'università chiesti quattro anni dopo il professor Panzone. Il PM ha chiesto la condanna solo per l'ex sindaco di Manfredonia. Ed è iniziato l'abbattimento del palazzo sulla riviera di Pescara. Giovedì potrebbero chiudere le carreggiate per le ruspe. Nell'abbattimento dello scheletro sulla riviera Norda, al suo posto verrà subito edificato un nuovo palazzo. Crack milionario del Pescara Calcio. Tre anni a Pincione e due a Soglia. Il processo si è chiuso con le condanne dei due ex presidenti della società Bianca Azzurra e dell'ex amministratore delegato. In discussione i fatti antecedenti il fallimento del 2008, risarcimento da 200 mila euro per la curatela. Carcere sovraffollato. Risposta del Ministero. Dopo la segnalazione di Pettinari e dei Cinque Stelle, il sottosegretario annuncia la redistribuzione dei detenuti che, ricordiamolo sempre, vivono in condizioni tragiche in tutte quante le carceri italiane. I progetti per salvare il clima spaccano il Consiglio Comunale. La maggioranza ha votato contro la mozione presentata dal centro-sinistra in difesa dell'ambiente. Forza Italia e Lega era solo un atto strumentale. I giovani siamo pronti a scendere di nuovo in piazza. I Cinque Stelle, richiesta approvata, subito regole per i monopattini elettrici. E i consiglieri, giro di vite contro gli assenteisti. In arrivo nuove norme per chi abbandona la seduta dopo l'appello. Non avrà più il gettone di presenza. Il Cinque Stelle, la ZTL in centro, è un caos a Pescara. Pedone investito davanti all'aeroporto. È ferito un pensionato di 68 anni, ora ricoverato all'ospedale. E la strada è rimasta chiusa. Andiamo a Montesilvano, nuova viabilità, bici e monopattini elettrici per gli spostamenti in città. Il Comune punta sulla mobilità sostenibile, costazioni di bike sharing, impianti di ricarica per le auto elettriche. Tempi stretti per i progetti entro il 31, i contratti. Controlli della finanzia, lavoro nero nei guai titolari di pizzerie e stabilimenti balneari. Città Sant'Angelo sigla l'amicizia con l'Uzbekistan. L'abbasciatore a Roma, Akbarov, in visita nel borgo, firma il patto con Perazzetti. Il sindaco uniti nella seta, una grande opportunità per noi e per l'Abruzzo. E a proposito di Città Sant'Angelo, un nuovo ascensore. Addio panorama. Ma andiamo avanti. Ferita con 11 coltellate. Leona trasferita a Roma. Francavilla migliorano le condizioni della 33enne Moldava. Ma le cure proseguono al Policlinico Gemelli. Adottato il Caneroe che l'ha salvata. Vi ricorderete il fatto di cronaca accaduto a Francavilla. Francavilla, un uomo l'ha accoltellata e si è difeso. È stato un raptus di gelosia perché l'amavo troppo. Ovviamente parole che non necessitano di commenti. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Rigo Piano, udienza rinviata. I familiari, amarezza e delusione. Dopo l'aggressione della madre di una vittima, l'ex sindaco di Farindola, il rinvio ha creato grossi disagi. È chiavato tanti chilometri per essere a Pescara. Tanda a partenza con il piede sbagliato per quel che riguarda un processo che in ogni caso si preannuncia molto, molto lungo. Nel taglio basso, Maiella riapre il nuovo bivacco fusco caramanico dopo oltre 30 anni dalla costruzione e ristrutturato il rifugio gestito dal club alpino. A Chieti, bimbo cade, è grave. Indagata la madre, piccolo di 5 mesi, ricoverato al gemelli, donna accusata di lesioni colpose e omissione di soccorso via da casa. Gli altri due figli. E accusati di spaccio, in quattro tornano liberi, a Chieti riesame a nulla le ordinanze, nei confronti di quattro indagati. Non vece violenze, assolto anche Don André, inflitti all'ex parroco, sei mesi per violazione di domicilio, atti al PM per valutare l'ipotesi di stalking. Chieste pene da 12 a 18 anni per i sanguinari della villa. Nell'udienza blindata il PM di serio vuole la condanna di tutti i sette romeni. L'8 ottobre la parola alla difesa, che anticipa finora solo indizi, servono prove. Si parla ovviamente della violenta rapina di Lanciano, che approfondiremo tra poco. Ma intanto andiamo su Teramo. Renziani con Ginobile spunta Tancredi, tre voti noti della politica provinciale all'evento con Rosato, anche Cavallari e Connitti, contestazione di Fratelli d'Italia. Sisma, torna agibile il primo condominio. Ordinanza a Teramo, rientrano 12 famiglie di Piano della Lenta, Ad Alberto presto pronti, altri stabili dopo le proteste dei giorni scorsi. Il sindaco in ospedale con la polmonite, si tratta del sindaco di Giulianova, ma lo vediamo sorridente nella foto, nel taglio basso. Nuova discarica, arriverà oggi il no del comitato via al progetto. Siamo ad Atri, ovviamente, è tenuta in regione la riunione dell'organo tecnico. Fuori ha manifestato un gruppo di cittadini. Lo stop è scontato, ma non sarà l'ultima parola. Il consorzio Piombafino può controbattere. E a proposito di sostenibilità, la pista ciclabile e taglio dei pini, il comitato Silvisud deve ancora decidere. A Pineto ho presentato il Sosteniamoci. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere turismo sul territorio. Ed eccoci nel capoluogo. Alesse, Ateneo, un impulso per la città. Il nuovo lettore riceve i sigilli dall'uscente Inverardi. Inverardi vogliamo continuare a essere un riferimento per il territorio. E il ministro inaugura le poste in centro. L'Aquila a Patuanelli con l'amministratore delegato del Fante all'apertura dei nuovi uffici. Ma vedo ancora ferite aperte nel capoluogo abruzzese. Artiste intellettuali. Il festival si deve fare. Da Saviano a Di Pietrantonio a Gifuni. L'Aquila non merita questa crociata ideologica. Intanto i soldi non sono arrivati. Vedete qui le foto degli ospiti nella bufera. C'è Saviano, Zero Calcare, Celestini. Mike Pompeo, segretario di Stato degli Stati Uniti. Uno dei fedelissimi di Donald Trump. Trump si recherà a Pacentro. Giovedì il segretario di Stato USA vedrà la casa dei bisnonni. Infatti, come intuite dal nome e di origini italiane, i consiglieri chiedono la cittadinanza onoraria per chissà quale merito. Andiamo avanti. Prima di leggere lo sport andiamo sul messaggero. Bacchettate da Salvini in Regione. Velachioma minaccia le dimissioni. Il coordinatore regionale della Lega nel mirino per referendum e nomine. Caso Fioretti. L'assessore aveva in giunta, ma Marsilio non gli rivolge la parola. E forse l'ha anche bloccato sui social network comuni. Alleanza tra PD e 5 Stelle. Tentativi d'intesa a Chieti e a Vezzano. Andiamo avanti. Su Pescara si indaga anche sul videomapping. Grandi eventi. Innesimo blitz della finanza in comune. Prelevate le carte relative ai giochi di luce a Piazza Salotto. E in procura ha aperto un nuovo filone che sposta l'attenzione su Summa di Pescara Vecchia. E si incrocia con il caso di Carlo. Esami venduti, un insulto agli studenti e l'accusa, la dura requisitoria del PM Marina Tommolini al processo per lo scandalo Panzone. Un sistema che aveva già attecchito e come abbiamo visto in Boccarasse e Contromano. Patente, ritirata la donna, ma anche cambio di versione. Sospetto del ragazzo pestato nella notte a Piazza Santa Caterina a Pescara. Questione che aveva già aizzato la mania securitaria del che sul pizzo ha annunciato nuove telecamere. Ma a quanto pare non si sa ancora come siano andate le cose. I revisori comunali accendono un farro sui debiti del MP. L'allerta pesa sul bilancio consolidato, approvato in Consiglio. E Alessandrini del 5 Stelle sollecita un'immediata me verifica. Morta per le botte, 13 anni al compagno, il romeno Gelucerciu, riconosciuto colpevole, a fine pena sarà rimpatriato. Il crack del Pescara Calcio, condannati Massimiliano Pincione e i fratelli Soglia. A base al rischio del viadotto di Pescara c'è un audio shock nell'inchiesta di Genova che riguarda anche la nostra regione. All'Aquila, in Verardi, consegna il sigillo. Università nelle mani di Alesse. Con mosso braccio tra rettori, suggerisce il passaggio. La cerimonia sarà istituzionalizzata per il futuro. L'uscente rappresentare questo Ateneo è stata la cosa più gratificante che mi sia mai accaduta nella vita. Le poste tornano nel centro storico, all'Aquila, l'abbiamo visto, l'inaugurazione alla presenza del ministro Patuanelli, dal Mise Risorse Vicinanza. Adesso si attendono queste risorse. Intanto biondi sono rientrate, 6 mila persone. Ora a Palazzo Margherita, l'AD dell'azienda Del Fante. Abbiamo mantenuto una promessa e ancora il festival si deve fare. Saviano e gli ospiti scrivono una lettera sull'evento del decennale. Stupro, 6 minori rinviati a giudizio. Sono tutti adolescenti, all'epoca studenti delle medie. L'episodio avvenne 6 anni fa in un centro della Marsica. approfittarono di una giovanissima, ma dissero che lei era consenziente e per l'accusa fu una violenza di gruppo. Andiamo a Chieti, Theater Center, colata di resina per fermare il dissesto della collina dove ci sono palazzi a rischio crollo. Andiamo avanti, colpo in Villa, chiesti 86 anni di pena. Il PM Mirvana di serie ha invocato condanna esemplare per la Cuzzini della rapina sanguinaria ai coniugi martelli. E sì, perché ricorderete sicuramente questo terribile fatto di cronaca. Secondo l'accusa i rapinatori si erano intrufolati, alcuni di essi in casa e in pieno stile arancia meccanica hanno picchiato i coniugi titolari della casa. Poi hanno aperto la porta ai complici per portare a termine la rapina. Vediamo come procede il processo nel servizio. Da 12 a 18 anni, queste le condanne richieste dal PM di Lanciano per i sei romeni della banda che rapinò ai coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan il 23 settembre 2018. Una rapina violenta nella notte in casa. I banditi pestarono a sangue il medico in pensione, mentre alla moglie amputarono parte dell'orecchio destro. La richiesta più alta avanzata dal procuratore capo Mirvana Di Serio è stata di 18 anni per Alexandru Bogdan Colteanu, che materialmente tagliò l'orecchio alla Bazzan. 14 anni a testa nei confronti di Marius Adrian Martin, Aurel Ruset e Konstantin Turlica e 12 anni a testa per Bogdan Divizio e Ion Turlica. Tutti e sei sono accusati di concorso in rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persone e porto abusivo di armi. Invece per il settimo imputato, Gheorghe Iacota, la pena richiesta è di due anni di reclusione per il solo reato di favoreggiamento per la tentata fuga di Ghivizio. Il GUP Giovanni Lampi ha rinviato l'udienza, iniziata con tre ore di ritardo, all'8 ottobre, quando in aula i difensori degli imputati faranno ognuno la propria ringa. Sono stati quindi concessi termini a difesa per i nuovi avvocati di Colteanu, che si erano rivolti alla Cassazione per spostare il processo in altra sede, visto, dicono, il clima ostile in città nei confronti degli imputati. Ma il GUP ha deciso di fare udienza e gli avvocati Rocco Ciotti e Alessandra Acciaro commentano. È una chiamata in corretà, quindi, diciamo, questo ruolo del più violento dell'autore materiale è il ruolo che gli viene affibbiato dagli altri elementi del gruppo. Le testimonianze degli altri? Le testimonianze, no, gli interrogatori che sono stati resi dagli altri, interrogatori precisi, ma a nostro giudizio né concordanti né lineari, proprio perché ci sono degli aspetti che riguardano delle condotte diverse. Soprattutto per tutelare quello che è il più piccolo della banda, ecco che inseriscono il Colteanu con una posizione più grave, più feroce e più ferata. Ovviamente noi ci riserviamo, insomma, di argomentare il tutto in serie di discussioni e il giudice, insomma, ci ha concesso questo termine a difesa e quindi siamo soddisfatti almeno per adesso perché avremo tutto il tempo di preparare un'adeguata difesa. Ecco, 18 anni ci stupiscono perché comunque è una chiamata in corretà, le posizioni sarebbero, ecco, tutte uguali. Quindi, insomma, almeno questo punteremo, se dovesse arrivare una responsabilità in questo caso, ad una, sicuramente a una riduzione, chiedere almeno una riduzione. E adesso andiamo su Teramo. Asl, tante donne al lavoro, ma i vertici non sono rosa, quattro uomini su dieci assunzioni per ruoli apicali, sono tutti per loro. La nao, maternità e poca flessibilità, le cause di questa vera discriminazione. A proposito di Teramo, andiamo rapidamente sul quotidiano Teramano, la città, leggiamo i principali titoli. Il centro dell'Aquila riparte dalle poste, come abbiamo visto, ma anche ristrutturazione del debito da 3,5 milioni con cassa, depositi e prestiti. E la Giunta regionale approva il calendario venatorio modificato. Inaccettabile sfregio alla fontana dell'Olmo, olio di frittura e birra smaltiti nell'acqua come rifiuti, individuato lo stand dello street food responsabile. Sarà denunciato da spo a vita la manifestazione che per il prossimo anno poteva finire ai tigli. Dopo questo episodio è fortemente a rischio. E stalking con video porno scatta il codice rosso. La polizia applica il divieto di avvicinamento ad un Teramano che non si rassegna alla fine della relazione con la ex. Il legislatore ha velocizzato le misure per contrastare i reati persecutori a sfondo relazionale. Ma andiamo rapidamente anche a leggere qualche notizia di sport. A partire dal centro, il Pescara cambia pelle. Zauri va sul 3-5-1-1. L'allenatore Biancazzurro per uscire dalla crisi sta pensando di mandare in soffitta il 4-3-3 e passare alla difesa a 3. E Sodimo ferma la corsa dell'Ascoli nel posticipo importante successo della Cremonese. L'Empoli è da sola in vetta. Cresi Teramo, il rilancio passa dal Bonolis. Serie C appena una vittoria in sei partite per il Diavolo. Ora due gare in casa con Rieti e Sicula per provare a risalire la classifica. Ma anche il calcio a 5 di Serie A ci sarà il turno infrasettimanale. A questa pone è Color Max in campo stasera contro le Laziali. E per quanto riguarda il basket femminile di Serie B, Ghilardi Panthers voglia di migliorarsi. Il coach delle Rosetane, squadra rinnovata ma sono fiducioso. E anche una notizia dal mondo delle arti marziali, il pescarese pennesi al mondiale in Bahrain. Andiamo a leggere anche le notizie sportive del messaggero pescare ad Ascorri, Pirlon Amarcord. Nelle Marche ha vinto una C1 e salvato la B in Abruzzo. Ha sfiorato una clamorosa Serie A. L'ex allenatore ancora il nulla, il di definitivo. I conti si fanno ad aprire. I top club usciranno. Zauri ora lavora sulla fase difensiva. E per quanto riguarda la palanuoto, il settebello torna a casa e vuole stupire ancora da un paio di settimane. La società è allenagli. Il comune premia gli irritati. E il teramo all'angolo. Ora due match decisivi. Il diavolo uscito con le ossa rotte da Monopoli. sta mostrando nelle ultime gare una lacuna caratteriale molto pericolosa con Rieti e Atletico. Leonzio riparte la rincorsa di Tedino e Socie. Per quanto riguarda la pallavolo femminile, Cus L'Aquila vince il torneo di Venezia. La Serie D notaresco leader continua il Magic Moment per la squadra abruzzese. Ma leggiamo anche sulla città. Andiamo subito direttamente allo Sport. E no, teramo così proprio non va. Un diavolo inguardabile a Monopoli. Replica agli errori già commessi. Iachini ieri era presente al Bonolis. Segno che anche lui è scontento. Nella foto l'attaccante Pietro Cianci. Atletica Gran Sasso allievi. Ottavo posto a Roma. Matilde Ciacci. Vittoria individuale nella disco con 35-45 metri. Primato per Di Marco nel lungo. E per questo martedì 1 ottobre si conclude così la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6. Grazie per essere stati con noi. Una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.